A pochi giorni dalla tragica morte del papà, Gian Maria Sainato rompe il silenzio sui social Addolorato per la perdita del padre, che ha perso la vita mentre faceva il bagno a sapri, l'influencer scrive poche parole per ringraziare i fan dell'affetto che gli stanno dimostrando Il messaggio è lo stesso sui suoi profili, grazie a tutti per la vicinanza in queste giornate così difficili Parole che escono a fatica, ma doverose vista la solidarietà che sta ricevendo Gian Maria Sainato è stretto alla sua famiglia e agli affetti più cari, scosso per quanto accaduto Il signor Andrea Sainato, 62 anni, barbiere molto noto a Sapri, dove viveva, è morto annegato martedì 29 agosto Si era tuffato in acqua nonostante le condizioni meteorologiche avverse, ma non è ancora chiaro se a essergli fatale sia stato un malore A dare l'allarme un altro bagnante che lo ha visto in difficoltà, ma a nulla sono serviti i succorsi Grazie a tutti per la vicinanza in queste giornate così difficili Grazie a tutti